la rifrazione è un fenomeno molto interessante che succede quando la luce attraversa due mezzi con caratteristiche diverse in questo esempio vediamo la luce che attraversa aria e acqua le leggi della rifrazione la prima legge il raggio incidente il raggio riflesso e la normale alla superficie riflettente sono nello stesso piano la seconda legge quando un raggio luminoso bassa da un mezzo meno denso a un altro più denso si avvicina alla normale ma se questo raggio bassa da un mezzo più denso ad un meno denso si allontana dalla normale come vedete in quella foto che indica il raggio incidente il raggio riflesso il raggio rifratto e la normale continuiamo le leggi della rifrazione come vedete in quella legge la n è uguale c fratto v la n è l'indice di rifrazione l'indice di rifrazione è un numero dato dal rapporto tra la c e la v e c indica la velocità della luce nel vuoto e la v e la velocità della luce nel materiale informazione molto importante i materiali con indice di rifrazione più alto sono più densi quindi hanno una densità alta come abbiamo detto la n si chiama indice di rifrazione e dipende dal tipo di materiale che la luce attraversa in quella tabella voi trovate di alcuni mezzi con le loro indici di rifrazione non imbarate questa tabella a memoria grazie grazie